qua eri su cazzo eri giusto eh io gli ho detto di passare qua lui li passa lì ma vabbè siediti devi sederti niente devi sederti sulla moto non devi spingere con le gare non devi oh Marco io pensavo che facevi le radici sulla destra comunque se non beccava l'albero andava fuori a zero davvero se vengo su a zero mi regali la tua moto io potrei anche rischiare a zero a zero è difficile eh è quello che ti ha ciulato perché poi ti sei spaventato se la tenevi lì e andavi e andavi via eh anche quello dove sei appoggiato potresti tirarlo via perché è secco passando qua di qua non sulla prima radice eh qualche di un altro se prova qualche di due c'era già passato ecco lì ti eviti già ecco poi ce n'hai una là io gliel'ho data qua lui le passa di là e dove gli ho detto anch'io ascoltami servivano 40 anni di prove no? qua cazzo cioè prova riprova ma va ma non viene su nessuno ho допetto le braccia mentre lo finì grazie davvero